Le vittorie ne ho prese molte, mi sono servite e poi, come dicono gli sportivi, solo chi cade può rialzarsi. Una sconfitta oggi può diventare una vittoria domani. Confesso che ho vissuto, che ho mangiato, che ho bevuto, che ho sbagliato. La maggior parte degli errori in gioventù. Controvoglia masticavo l'insalata posta sotto un filetto di bue o di pesce persico, caldi naturalmente. Sotto un errore molto frequente anche oggi, non solo in Italia. Non occorre avere frequentato l'università dei cuochi per capire che le tucce di lattuga, valerianella o indivia croccante si cuoce al calore della carne o del pesce e l'insalata si ammuscia ai limiti dell'immangiabile. Infatti non la mangio più e torgo mentalmente il punto al responsabile dell'insalaticidio, perché di questo si tratta, non certo di un voluto contrasto caldo-freddo. Poche cose espirano più tristezza di una foglia di lattuga appassita, forse una scarpa sfondata al bordo di una strada.